Biogas Italy 2018, siamo in compagnia di Francesco Monbelli di Yes Energy Group. Dottor Monbelli, voi avete una lunga esperienza in fatto di biogas, che cosa fate? La nostra azienda ha un'esperienza decennale nel mondo del biogas. La biogas, attualmente abbiamo tre divisioni operative, quindi la Yes Biogas, che ha realizzato in Italia più di 200 impianti a biogas, sia agricolo che industriale. Al momento abbiamo circa 50 contratti in essere per il 2018-2019. Una divisione che segue lo sviluppo degli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. E una terza divisione che segue la parte west, quindi i rifiuti, sia in termini di rifiuti organici che di trattamento di raccolta indifferenziata. La nostra filosofia è sempre stata, più che la sostenibilità che da parte nostra teniamo sempre in evidenza, la conservabilità delle risorse. Quindi in tutti i casi, sia nel mondo Yes Biogas, sia nel mondo Yes West, la conservabilità delle risorse per noi è sempre stata fondamentale. Sia nel mondo agricolo, sia nel mondo industriale, che nel mondo dei rifiuti. Dottor Monbelli, dopo l'esperienza fatta in Italia, voi siete molto attivi anche all'estero. Si può tracciare un panorama di ciò che è il biogas all'estero e quali potrebbero essere gli sviluppi futuri? Senza dubbio. Diciamo che noi fino ad ora all'estero abbiamo realizzato circa 25 megawatt di impianti e sono sostanzialmente divisi in due grandi categorie. La parte relativa a Sud America, dove siamo già operativi in Argentina con diversi impianti, sono impianti prevalentemente agricoli e su qualche impianto abbiamo anche l'utilizzo di sottoprodotti per la produzione di energia elettrica, per la produzione di bioetanolo. Quindi sono situazioni molto particolari. Per quanto riguarda il Sud-Est asiatico, dove siamo operativi ormai da più di 4 anni, abbiamo la prevalenza di trattamento rifiuti. Quindi la prevalenza degli impianti saranno impianti di trattamento rifiuti per l'ottenimento di biogas e per l'alleggerimento delle discariche che oggi hanno seri problemi di accettabilità in funzione della grande quantità di organico che viene conferita. Per quanto riguarda invece la parte Est-Europa, stiamo lavorando prevalentemente sul mondo agricolo. Queste sono le tre differenziazioni. Quindi Europa, Est-Europa, mondo agricolo e mondo industriale. Per quanto riguarda Sud-America, agricolo, qualcosa come rifiuti a livello brasile soprattutto. E per quanto riguarda Sud-Est asiatico, prevalentemente trattamento rifiuti. Bene, grazie Dottor Mombelli. Da Biogas Italy 2018, Sergio Ferraris. Grazie a tutti.